commentiamo insieme sono trent'anni troppo anche per chi ci segue quindi veramente difficile intanto però è partita la prima ginnasta a corpo libero Abigail Martin britannica e subito con uno tsukara abbastanza buono sia per l'altezza che per l'arrivo un piccolo salto in balzo all'indietro secondo diagonale bravissima è sempre l'alte flacco in doppio teso salto avanti teso smezzato rondata fli flac due avvitamenti e mezzo grande dinamica ancora un salto agrobarico di un certo livello stop indietro colpo flesso bravissima convincente la prova del